Volevamo promuovere anche quest'anno la diciassettesima edizione dell'infiorata di Torricella. Riprenderemo quest'anno, anche dopo il fermo del Covid, con degli eventi collegati all'infiorata. Abbiamo chiesto l'aiuto di altre associazioni del territorio, perché quest'anno faremo quattro giorni dedicati all'arte, alla cultura e allo sviluppo del territorio. Hanno collaborato con noi degli artisti molto importanti, di cui Attilio Spagnuolo, che è un artista che farà un live painting all'ingresso del comune, stasera e domani sera, quindi l'8 e il 9 giugno. Questo è stato organizzato da ERZ, che è una galleria d'arte che sta a Teramo, gestita da Anna De Paulis, che anche lei ha collaborato per diversi anni con l'infiorata. In più, per aglietare un po' la serata, abbiamo chiamato il maestro Franco di Donatantonio, che con un pianoforte a coda davanti al comune, mentre Attilio Spagnuolo farà il suo dipinto, abbiamo cercato di creare un connubio tra musica, arte e cultura, tutto incentrato nell'attesa della notte dell'infiorata. La notte dell'infiorata verrà fatta quest'anno, il tema sarà il Corpus Domini. Per la Chiesa questa sorenità è importantissima, perché è un prolungamento della Messa, dell'Eucaristia, che per quest'anno abbiamo voluto mettere a conoscenza la ricerca di un ragazzo che è morto giovanissimo, adolescente, nel 2006, che è stato beatificato poco fa, nel 2020, da papà beatificato dal nostro caro papà Francesco, e questo ragazzo si chiama Carlo Acutis, che sta facendo tanto per i giovani. A questo evento ci teniamo perché vogliamo lanciare un messaggio per questo evento, che nel 2023, in una società che vive sotto la dittatura del consumo e del conformismo, è importante ritornare a ricercare il Vorto Santo di Gesù.